Civilizzare il capitalismo è il titolo del volume di Francesco Fiumara, consigliere della quinta legislatura e assessore all'agricoltura tra il 1994 e il 1995, presentato a Palazzo Lascaris a cura dell'Associazione Consiglieri della Regione Piemonte. Con l'autore hanno partecipato all'incontro moderato dal giornalista Nino Battaglia, Luciano Marengo, presidente dell'Associazione, Don Paolo Comba, parroco di Santa Maria della Scala e i vicepresidenti dell'Assemblea Nino Boeti e Daniela Ruffino.